Il numero di ossidazione è un concetto importante soprattutto per quanto riguarda il bilanciamento di particolari reazioni che si chiamano reazioni redox o di ossidoriduzione. Non verranno discusse in questo video, ma si tratta di reazioni particolari in cui, oltre allo scambio di masse, cioè di atomi, si ha uno scambio di elettroni. Per bilanciare correttamente queste reazioni è importante avere il concetto di numero di ossidazione, che verrà appunto trattato in questo video. Esiste una definizione di numero di ossidazione che è la seguente. Sarebbe la carica che avrebbe un elemento all'interno di una specie chimica attribuendo gli elettroni di legame all'elemento più elettronegativo presente. In realtà esistono poi tutta una serie di regole pratiche per attribuire ai singoli elementi il loro numero di ossidazione. Vediamo quali sono queste regole. L'idrogeno è sempre più 1 come numero di ossidazione, ad eccezione degli idruri dove è meno 1. Gli idruri, ricordo, sono dei composti tra i metalli e l'idrogeno. Siccome i metalli sono più elettropositivi è chiaro che loro avranno il numero di ossidazione positivo, mentre invece l'idrogeno avrà un numero di ossidazione negativo. Pur sempre 1 perché il numero di ossidazione coincide praticamente sempre con quello che è la valenza dell'elemento, cioè la sua capacità di fornire dei legami chimici. La differenza è che può avere un segno positivo o negativo. poi abbiamo l'ossigeno. L'ossigeno è sempre meno 2, salvo che nei perossidi, dove è meno 1. I perossidi sono dei particolari composti chimici in cui esiste un ponte ossigeno-ossigeno. Quindi è evidente che questo legame qua non conta perché è tra due elementi identici, quindi che hanno la stessa elettrolegatività, ne consegue che due ossigeni avranno ciascuno meno 1 come numero di ossidazione. Gli elementi non legati a nessun altro elemento hanno un numero di ossidazione 0. Quindi ad esempio l'idrogeno molecolare è 0, dato che sarebbero, come nel caso dei perossidi, due elementi chimici identici collegati insieme, per cui nessuno è più elettronegativo dell'altro. I cationi hanno un numero di ossidazione che coincide con la loro carica. Per esempio il catione Zn2+, avrà un numero di ossidazione pari a più 2. È importante sottolineare che 2+, è la carica che ha l'ione disciolto in acqua, più 2 invece su un numero di ossidazione, quindi occorre non confondere i due numeri. Un'altra regola molto importante è che la somma algebrica dei numeri di ossidazione all'interno di una molecola deve sempre fare 0 e questo permette di ricavare per differenza nei composti ternari i numeri di ossidazione incogniti. Per quanto riguarda invece il calcolo del numero di ossidazione delle molecole organiche, come vedremo più avanti, deve essere fatto in modo particolare, considerando ogni singolo gruppo atomico. Consideriamo adesso alcuni esempi, cominciando da specie chimiche inorganiche. Allora, consideriamo per esempio questi seguenti esempi. Supponiamo di avere l'ossido di calcio CaO, noi sappiamo che l'ossigeno è meno 2, di conseguenza siccome la somma algebrica deve fare 0, il calcio sarà più 2, coerentemente col fatto che è un metallo e quindi il numero di ossidazione è positivo e coincide con la sua valenza. Supponiamo di considerare il perossido di sodio. Il perossido di sodio è Na2O2, siccome è un perossido ogni ossigeno è meno 1, quindi l'ossigeno sarà meno 2. Il sodio deve essere nel complesso più 2, ma siccome ce ne sono 2, ciascuno sarà più 1 e infatti il sodio è più 1, valenza 1. Consideriamo ad esempio l'acido solforoso, H2SO3. L'ozolfo chiaramente, essendo un composto alternare, lo faremo per differenza. L'ossigeno è meno 2, l'idrogeno è più 1, quindi gli ossigeni sono meno 6, gli idrogeni più 2 nel loro complesso. La somma algebrica fa meno 4, ma per andare a 0 dovrà cambiare a disegno, quindi diventerà più 4 e infatti l'ozolfo qui è più 4. Non per niente l'acido solforoso è l'acido che deriva dall'anidride solforosa dove lo zolfo manifesta valenza 4. Consideriamo ad esempio alcuni sali, ad esempio il solfato di alluminio, L2SO4 preso 3 volte. Qui bisogna stare attenti naturalmente al numero totale di elementi presenti. L'ossigeno è meno 2, l'alluminio noi sappiamo che è più 3, di conseguenza meno 2 per 4 fa meno 8, per 3 in totale meno 24 per quanto riguarda l'ossigeno, per quanto riguarda l'alluminio sarà più 6. La somma algebrica più 6 meno 24 fa meno 18. Ma siccome ho 3 atomi di zolfo perché il gruppo SO4 preso 3 volte va diviso per 3, quindi verrà meno 6, per andare poi a 0 come somma algebrica diventerà più 6 e infatti lo zolfo più 6 perché essendo questo un sal dell'acido solforico, l'acido solforico deriva dall'anidride solforica che è proprio l'anidride dello zolfo con valenza 6. Vediamo alcuni altri esempi, consideriamo ad esempio un sale acido, supponiamo di avere il fosfato monoacido di magnesio, MgH più 4, l'ossigeno è meno 2, quindi qui sarà meno 8, il magnesio è più 2 perché è un metallo, l'idrogeno è più 1, quindi in totale saranno più 3, somma algebrica fa meno 5, ma siccome bisogna poi andare a 0 diventerà più 5. e questo sarà proprio il numero di ossidazione del fosforo. Consideriamo un ultimo esempio, ad esempio il bicromato di potassio, K2, Cr2, O7, l'ossigeno è meno 2, il potassio è più 1, quindi l'ossigeno sarà meno 14, il potassio sarà più 2, la somma algebrica farà meno 12, ma siccome due atomi di cromo devo dividere per 2, quindi farà meno 6, per via della regola della somma algebrica diventerà più 6, per cui il cromo effettivamente sarà un cromo esavalente più 6. Per quanto riguarda gli ioni invece bisogna stare attenti perché bisogna tenere specialmente per gli ioni, bisogna tenere conto della loro carica. Ad esempio, se io ho un catione come l'ione ferrico, F3+, il numero di ossidazione sarà più 3, perché abbiamo detto che per un quarto riguardo a un catione la carica coincide con il numero di ossidazione. Notare la formulazione, più 3 da non confondere con 3+, 3+, è la carica dell'ione in soluzione, più 3 è il suo numero di ossidazione. Un ultimo esempio per quanto riguarda le specie chimiche inorganiche, ad esempio l'ione nitrato, N3 meno, l'ossigeno è meno 2. Ricaviamo adesso il numero di ossidazione dell'azoto. Allora, ci sono 3 ossigeni, quindi sarà meno 6, però attenzione che c'è già una carica negativa evidenziata, perché l'anione ha già carica negativa, quindi a meno 6 occorre togliere meno 1, anzi più 1, perché deve diminuire di 1 la carica negativa, e quindi sarà meno 5. Solita regola della somma algebrica positiva, uguale a 0, quindi l'azoto più 5. Ecco, questi sono alcuni esempi significativi per quello che riguarda le specie chimiche inorganiche. Molto più complessa invece è la situazione delle molecole organiche. Consideriamo ad esempio le seguenti molecole. Partiamo da un esempio semplice, ad esempio l'etano, l'etano è un idrocarburo, un alcano, quindi la formula generale è CnH2n più 2, per l'etano è n uguale a 2, cioè 2 atomi di carbonio, quindi sarà C2H6. Se io vado a calcolare il numero di ossidazione del carbonio, lo posso fare direttamente sulla formula brutta, perché? Perché i due carboni sono collegati per formare una catena da due atomi di carbonio, quindi ogni atomo di idrogeno è più 1, totale è più 6, il carbonio deve essere meno 6, diviso 2, meno 3, e in effetti è meno 3. In effetti è meno 3. In realtà questo è un caso particolare, perché la catena ha la lunghezza minima, solo due atomi di carbonio. Occorre in realtà considerare ogni singolo pezzo della catena. Mi spiego. I due gruppi CnH3 andrebbero considerati separatamente, considerate che ogni idrogeno è sempre più 1, quindi il gruppo CnH3 a destra, per andare a 0 il carbonio deve essere meno 3, la stessa cosa per quello di sinistra. Quindi chiaramente due atomi di carbonio qui hanno lo stesso numero di ossidazione, cioè abbiamo attribuito correttamente il numero di ossidazione direttamente sulla formula brutta. ma se la catena fosse più lunga, questo discorso non funzionerebbe. Proviamo a considerare il propano, che sarebbe l'omologo superiore, cioè il C3H8. Se vado a attribuire il numero di ossidazione con la stessa regola di prima, cosa avrei? Più 1, quindi sarebbe più 8. I 3 carboni dovrebbero essere allora meno 8 nel loro complesso, ma se ne sono 3, quindi dovrebbero essere meno 8 terzi. Meno 8 terzi non è il numero di ossidazione che ha un senso, perché è solo un valore medio e questo lo si capisce considerando la catena nel suo complesso. Se io scrivo la catena del propano avrei questa situazione qua, CH3, CH2, CH3. Vado a considerare i singoli carboni. I due estremi di catena hanno la stessa situazione vista nell'esempio precedente. Siccome ogni idrogene è più 1, quindi più 3, il carbonio per andare a 0 localmente in quella parte lì deve essere meno 3. Infatti i carboni a estremità di catena sono ancora meno 3. Ma se vado a considerare il carbonio centrale, questi due legami qua non li devo contare nel numero di ossidazione, perché avrei un carbonio legato ad altri due carboni e quindi non posso attribuire l'elettrone di legame all'elemento più elettronegativo, hanno la stessa elettronegatività. Quindi in questa valutazione di numero di ossidazione i legami tra gli stessi atomi non contano. Devo solo considerare il più 1 degli idrogeni, ce ne sono due, quindi più 2, questo carbonio sarà meno 2. Faccio notare che se faccio la somma meno 3, meno 3, meno 2 e poi divido per 3, viene di nuovo quel famoso meno 8 terzi che sembrava così illogico. Viene quel valore lì perché è un valore medio, quindi nel campo delle molecole organiche devo considerare ogni singolo atomo di carbonio. Facciamo alcuni altri esempi in cui facciamo anche vedere cosa succede ossidando una singola molecola. Per esempio consideriamo il caso dell'alcol etilico, etanolo, scrivo direttamente la formula di struttura, CH3, CH2, OH, questo sarebbe l'etanolo o alcol etilico. Se vado a attribuire il numero di ossidazione di nuovo devo considerare i singoli carboni, quindi questo carbonio come prima sarà meno 3, questo carbonio, attenzione che non è legato a tutti i carboni, ma è legato a un ossigeno e due idrogeni. Conviene considerare il gruppo H nel suo complesso, tenendo conto che idrogeno è più 1, ossigeno è meno 2, quindi l'intero gruppo H sarà meno 1. Siccome la situazione di questo carbonio sarebbe quindi questa, OH, abbiamo detto che questo gruppo qua per conto suo è meno 1, poi ci sarà più 1 questo idrogeno, più 1 questo idrogeno, più 1 fa 0, devo solo ancora portare a 0 questo più 1, quindi questo carbonio diventa meno 1, quindi il carbonio nell'etanolo è meno 1, questo carbonio qua è meno 1. Proviamo adesso a immaginare di ossidare questo alcol, sappiamo, è noto dalla chimico organica che se io ossido un alcol primario si ottiene un aldeide, l'aldeide corrispondente sarebbe l'etanale o aldeide acetica o acetaldeide, quindi sarebbe CH3CHO, quindi COH, faccio scrivere direttamente a fuori struttura così è più chiaro, di nuovo considero i due carboni, questo sarà sempre meno 3 e la situazione adesso del carbonio, del secondo carbonio è cambiata perché questo sarà più 1, questo sarà meno 2, quindi la somma algebrica di questi due atomi fa meno 1, se voglio fare in modo che anche questo gruppo sia 0, con il numero di ossidazione, allora necessariamente il carbonio diventa più 1, quindi da notare che nell'etanolo era meno 1, nell'aldeide acetica che è un prodotto di ossidazione, ossidato, il numero di ossidazione è correttamente aumentato perché è diventato più 1, la stessa situazione si ottiene ossidando ulteriormente l'aldeide e noto che ossidando l'aldeide ottengo il corrispondente acido, cioè l'acido acetico, se vado a scrivere la forma dell'acido acetico CH3COOH, di nuovo devo considerare i due gruppi, quindi questo carbonio sarà meno 3, come al solito, ma la situazione qui sarà diversa perché il gruppo H di per sé è meno 1 e questo ossigeno è meno 2, quindi in totale il carbonio dovrà neutralizzare tre cariche negative, per fare ciò dovrà avere un numero di ossidazione più 3. Ecco che si vede molto chiaramente che passando dall'etanolo, carbonio meno 1, all'etanale, carbonio più 1, all'acido acetico più 3, quindi è coerente questo meccanismo di calcolo di un'ossidazione col fatto che la molecola viene progressivamente ossidata. Consideriamo ancora due esempi significativi, consideriamo ad esempio il cloroformio, il cloroformio è il triclorometano, quindi sarà CHCl3, se io rappresento la forma di struttura, ClClCl. Applico adesso la definizione di numero di ossidazione, abbiamo detto attribuire per ogni legame gli elettroni all'elemento più elettronegativo, di conseguenza questo idrogeno sarà più 1 e ciascuno dei clori sarà meno 1, quindi in totale avremo meno 3 più 1 fa meno 2, per forza il carbonio centrale allora sarà più 2 come numero di ossidazione, quindi vedete come se ho altri atomi devo considerare atomo per atomo, legame per legame, applicando la regola generale che definisce il numero di ossidazione. Un ultimo curioso esempio è questo idrocarburo qua, un isomero del pentano, in pratica un isopentano. Isopentano è un termine sufficiente perché ci sono diversi isopentani. Allora questa struttura è tipica del neopentano, in pratica un carbonio collegato a altri 4 carboni sotto forma di gruppi mettini. Applicando la consueta definizione possiamo capire subito che ogni atomo di carbonio esterno è meno 3, perché in questo modo si neutralizza con i più 3 degli idrogeni. E il carbonio centrale che numero di ossidazione avrà? Come si vede è collegato a 4 atomi di carbonio, quindi nessuno dei legami conta per attribuire il numero di ossidazione, per cui anche se è strano il carbonio centrale avrà un numero di ossidazione pari a 0, perché non è possibile attribuire gli elettroni di legame all'atomo vicino, perché sono tutti atomi uguali. Quindi come si può vedere in questo caso è essenziale applicare la regola generale. Penso che gli esempi siano sufficienti, è molto più facile quindi per le molecole inorganiche, per le strutture inorganiche applicando quelle regole che abbiamo visto all'inizio più o meno empiriche e mnemoniche, invece per le molecole organiche è fondamentale considerare ogni singola situazione di legame.